... 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 a disporre una serie di spessi affidamenti per fare piccole cose sul territorio, sicuramente non saranno quelle che compensano le necessità che hanno sul territorio, ma che comunque in qualche modo in questi fondi che avevamo...